Si torna a parlare di Poru, come riqualificare le città senza troppo consumo di suolo in due convegni, uno ad Ascoli e un altro a San Benedetto, il prossimo 13 e 14 marzo. Il tema centrale è quello della rigenerazione urbana. In particolare nella prima parte del convegno, quello che si svolgerà da Ascoli Piceno, l'occasione sarà quella di fare il punto sul tema e di illustrare i motivi per cui da una lunga fase di iniziative nel campo della riqualificazione urbana le amministrazioni, gli operatori economici e la disciplina urbanistica si stanno orientando verso interventi di rigenerazione urbana. Interventi cioè più radicali, che non solo tentano di rendere migliore e se possibile anche più bella la città, puntano a ridurre una serie di impatti che la città ha prodotto nel corso della sua crescita. Impatti che riguardano essenzialmente il consumo di suolo, l'inquinamento e il consumo energetico, tutta una serie di questioni molto rilevanti che possono costituire non solo una strategia di riduzione delle impatti e quindi un miglioramento della sostenibilità delle città, ma anche un nuovo modello di sviluppo per l'economia. Presenteremo i risultati di una ricerca svolta per conto del Comune per introdurre una iniziativa che punta ad attuare soprattutto le previsioni pubbliche del piano urbanistico vigente. La legge in questione riguarda i piani operativi di riqualificazione urbana e cerca di fare in modo che questi interventi vengano attuati con la collaborazione tra il pubblico e il privato per rendere sostenibile anche da un punto di vista finanziario questo tipo di interventi.